Il MES, io non ho alcun dubbio sul fatto che sia una battaglia ideologica, la proposta che fa il 5 Stelle e Crimi costa 300 milioni di euro in più l'anno. Per me buttare via 3 miliardi di euro in nome di un interesse ideologico è allucinante. Quei 300 milioni di cui parla Renzi ci costerebbero in termini di impegni e di ulteriori costi per il nostro paese, pensiamo alla legge Fornero o ad altre leggi simili. Che c'è a zecchia vita la Fornero con il MES? È un modo di finanziare. Ragazzi, di dove la verità gli italiani? Non c'entra niente la Fornero. Le condizionalità che ha il MES possono portare domani ad avere degli obblighi. Questa frase è falsa perché nel termini, nelle condizioni, nel contratto, Tajani lo sa meglio di me, sendo stato a lungo in Europa, è chiaro che non ci sono condizionalità. Quindi questa cosa della Fornero è una roba che non sta in cielo o in terra. Sono 3 miliardi che vogliamo buttare via, come se ne avessimo tanti.